Oh, questa ve la volevo proprio raccontare. Ah, io non inizio, ciao, sono Lorenza, questo è il mio canale, insomma, leggete lì sotto. Poi per me siete già tutti amici, amiche, anche quelli che passano per caso, poi chi non si sofferma, non si iscrive al canale, non mette i like. Lo sapete che se non mettete i like le mie chiacchiere non arrivano a persone tristi, scoraggiate, annoiate, che hanno tanti panni da stirare, o un giardino da curare, delle casette d'inverno, come si chiamano, dei giardini d'inverno da preparare, e non si fa mica così, forza, su, pigre. Poi chi si vuole iscrivere si iscrive, chi non si vuole iscrivere non si iscrive, va arrangiatelo, sapete come si fa, se avete piacere di far crescere il canale. Quante persone tristi conoscete? Pensate che come si possano scoraggiare ancora di più? Eh, lo so che ogni tanto faccio i cazziattoni, però, vabbè, è proprio un impegno civile intriso dentro di me. Allora, vi volevo raccontare questa. Come faccio gli ordini? Vabbè, come tutti, a parte che se posso delego, ad esempio, chiamo Camilla, per favore, guari, lala, fa lei le cose, tante cose rognose me le fa la Camilla. Tipo, io cerco una cosa che mi serve, passo a lei, dico, mamma, compro e fai spedire. E anche tutti i fila, le cose queste qua, insomma, le fa la Camilla, anche per la mia famiglia. Mia madre, che è circondata da nipoti, che sanno andare su internet, dico, ma vai sul sito e guardati, e dice, no, non sono capace, poi tu hai il nipo, tua zia, tuo cugino, insomma, queste cose qua. C'ho la batteria scarica? No, ma che dice? Insomma, vabbè. Speriamo non si fermi qua. Allora, mi dà un'inconvenza, mi dice, mi chiede, per favore, mi scegli delle cose, dalle lollo, anche lei le chiama le lollo, eh. Ha fatto un unboxing, mia madre, ve lo ricordate? Cercatelo. Mi ha fatto morire da ridere che c'era la signora che va a dare una mano in casa, che la riprendeva. Oh, mi raccomando, gli ho detto a Gabriella, impegnati, sto divertita. Mai più, eh, però. Allora, mi chiede, non so in quanti sanno che mi sono nate due nipotine, due pro-nipotine, due gemelline. Io ho sei fratelli, cioè un misto, eh, fra fratelli e sorelle siamo sette. Ho un po' di nipoti, qualcuno ha figliato in famiglia, io ho una, l'altro ho una, chi tre, chi due. Vabbè, comunque ci sono dei nipoti. Stanno arrivando i pro-nipoti, penso se saranno gli ultimi, eh. I primi e gli ultimi, forse. Eh, perché, vabbè, i tempi sono questi, le mentalità anche. Va bene, allora mi chiede. Allora, io ho da fare le copertine, mi dice. Però poi c'ho da fare sempre anche le scarpette. Ma tua nipota, cugina, tua nipote vorrebbe un golfino. Sai, un po' stile Camilla, lei come i colori un po' come la Camilla. Sapete, quelle cose molto classiche, basiche. A parte che mia figlia ora si sta anche lanciando, eh. Se non è di quei beige che le devono stare bene alla pelle. Mmh, sì, il grigio, i chiari, i chiari. E vabbè, dico, ok. Taglia, è come tua figlia, mi dice. E quindi mia figlia è una XS. Camilla è snellina, magrina. Vabbè, una XS, braccia lunghe. In casa nostra sono tutte scimmie le ragazze. Scherzo. Ah, va bene. Allora, io un po' che non la vedo a mia nipote. Siamo tutti sparpagliati qua. E allora, il budget, 100 euro. Allora, io cosa devo fare? Devo fare come faccio per me. Ah, no. Per me io a volte mi lancio e prendo anche dei colori proprio molto diversi. Filati molto diversi. Perché ho delle esigenze diverse. Ecco, tanto per non ripetere gli stessi termini. Ma in casa c'è questa cosa di non avere troppi avanzi. Sapete che per me che bazzi con la maglia, l'uncinetto e poi tesso e poi a volte ricamo. Quando me lo ricordo, se mi gira faccio anche un po' di feltro, ma a modo mio. Insomma, per me tutto è una risorsa. È come dire, io non vedo un tubetto quasi terminato di colore, che sarebbero poi i miei gomitoli, no? Le cake, le rocche. Vedo delle opportunità, perché spesso sono irripetibili. Se devo fare un multicolor, un progetto particolare, vabbè, bisogna partire e comprarsi tutto quello che serve e che ne avanzerà anche tanto. Oppure, si cerca di fare degli acquisti mirati in modo che, se mi avanza un po' di quello, mi avanza un po' di quell'altro. Come quando si va a fare la spesa, no? Vabbè, ti serve il sedano, ti serve la carota, però prendi magari anche le bietole per fare la pasqualina. Che prendi, che so, le patate per fare qualcos'altro. E poi, appunto, le carote. Poi prendi magari la verza da fare in insalata. Io la verza liscia la faccio prettamente cruda. Però, con quelli che tanti chiamano scarti, io non li scarto a meno che non siano marci, ma magari le parti un po' più coriace, tolgo la parte più dura. È successo qualcosa, è andato via qua allo schermo. Che succede? C'è qualcosa che non quadra stamani, è data via la luce. Oh, mamma mia. È data via la luce. Vabbè, pazienza, mi sposto, mi giro di qua, va bene? Così vedete un po' di cake, un po' di cose, un controluce. E, insomma, non era prevista questa cosa che ha messo via la luce. Perché in settimana, a meno che io non ho visto dei cosi alle 15, l'altra settimana l'hanno tolta di una parte del paese. Ma nessuno mi ha avvisato ieri. Io sono andata in giro, non ho visto manifesti. Vabbè, vediamo quello che succede. Allora, cosa vi volevo dire? Ah, ecco sì, quindi bisogna cercare spesso di fare degli acquisti mirati. Considerando poi gli avanzi, come li impieghiamo? Li possiamo impiegare? Allora, mia madre aveva l'esigenza di fare delle nuove copertine. Non per le gemelline questa volta, ma per i figli dei figli di qualcun altro. Insomma, in famiglia sto sempre a chiedere le cose, anche i nipoti. Ma mi nasce il nipotino dell'amico? Mi potresti fare una copertina? E quindi ha da fare due copertine per due bambine. E quindi io ho pensato, ma noi abbiamo anche delle bambine, mia madre deve fare solo delle copertine? E quindi penso ai quantitativi. Poi mia madre come fa le cose? Le fa a modo suo, come da sempre, come siamo fatti noi in famiglia. Quindi prende un giornale e magari si lascia ispirare. Guarda un punto, poi lo trasforma. È un punto in suo maglione? Diventa una copertina. È un bordo su qualcosa? Diventa il bordo della copertina. Non hai idea per i bordi? Ci penso io. Le prendo i filati che diventano già decorativi, come ho fatto in questo caso. Mia nipote, io ho pensato a un grigio, perché poi non lo vuole così, lo vuole cos'ha, non vuole una cosa gonfia, perché ci sono un sacco di bei filati, però bisogna incontrare il gusto di chi poi dovrà indossare la cosa. E allora cosa ho fatto? Il budget 100 euro. 100 euro per fare questo acquisto, dove ci dovrebbe uscire un golf per mia nipote e due copertine. Sentite a me. Ci ho messo un po', ma non tanto, anche perché ormai ho tutto nella testa io di Lollo Crea stampato. E quindi conosco poi la polla di mia madre. Mi raccomando, non troppo piccoli, né troppo grossi, intende i calibri. E allora cosa ho comprato? Avrei voluto farvelo vedere sullo schermo, ma non si può, è andata via la luce. E allora, gli ho preso due cake di rose, allora, due colori, tre colori del rose. Il rose è un filato che lo trovate nell'estensione fantasia. È una cosa bellissima, non è una vera e propria bouclée, ha delle parti più luminose in questo fondo di filato, andatela a vedere. È un 40% lana, 30 moer, 20 poliammida. E i colori che ho preso, in tutto ho preso 5 cake, 420 metri, scusatemi, 250 metri ciascuna, 4 euro e mi pare che siano 20. Ma potrebbe essere un 90, io no, una calligrafia pessima, ma dovrebbe essere 20. Boh, andatelo a vedere. E 100 grammi. Ho preso due cake rosa, due cake pesca e una grigia. E vi dico poi perché. Poi ho preso 8 cake di confetto, è uno dei filati che io amo tantissimo, 450, 4,50 euro la cake. 350 metri per un misto alpaca 45%, misto lana appunto 45% di alpaca, 45% di lana e il resto di ioshell. Allora, ho preso 4 malva e 4 grigi. Il malva per una copertina, il grigio per la possibile maglia di mia nipote che la vuole semplice, semplice. La vuole no grossa, no aderentissima, semplice, una magliettina semplice. La voleva fatta dalla nonna. Poi ho preso 7 cake di scozia, quello già doppiato, 70% alpaca, 20% lana, 10% viscosa. Perché tutto questo, questa differenza? Perché faccio giocare anche mia mamma, se no si annoia sempre con le stesse cose. E quindi ho preso filati diversi. E quindi cosa ho scelto? Nello Scozia, che sono 3,90 euro la cake per 340 metri in 100 grammi, ho preso 3 pink, 4 pesca e 3 salomon. O salomon, non lo so perché c'è anche il salmone nel vario ensemble. Perché? Perché adesso uno di questi tre colori, non mi ricordo più qual è, forse il salomon, potrebbe, ah no il pesca, potrebbe rientrare tra i colori papabili per mia nipote. Ne ho prese 4 cake. Considerate 340 metri, è una taglia XS e non vuole cose strane. E poi ho preso un botto, sono 80% lana, merino e 20% viscosa. Ha quel bellissimo filato pieno di colori, tanti colori, con l'effetto tweed bottonato. E costa 4 euro alla cake per 450 metri. Allora, mia madre, ogni quelle che mischia, fa le righe, fa le cose, non si preoccupa di lavorare più colori. Ha molto gusto, devo dire. Allora, cosa è successo? Ho cercato di combinare le cose. Quindi, il rose grigio potrebbe andare nel golfino di mia nipote con il confetto grigio. E dove? È lungo lo scollo perché le potrebbe piacere, le piacciono gli scolli un po' a barca. Così come potrebbe essere uno scollo a giro collo. Ma dove intorno mia madre potrebbe anche con l'acqua a modo suo fermare un po' di questo bel filato ed effetto che sarebbe il rose. Così come potrebbe fare qualche righina verso il polso o qualche righina verso la parte finale della maglia, verso il bordo. Intanto sono combinabili e sono graziosi perché lo scozzo è un po' opaco come filato, delizioso. E ecco che gli arriva un po' di luce, tono su tono praticamente. Il pink. Allora, poi abbiamo i quattro malva per l'eventuale copertina e anche lì, o il salomon o il pink per l'altra copertina. Ma, appunto, siccome ci sono anche le gemelle, tutto ciò che avanza può diventare, a modo di mia madre, qualche gilet, qualche scamiciatina o qualche golfino, perché sono piccoline ancora, sono belle ciccettine, ma sono minutine le mie bimbine. E il rosa antico del botto, siccome mia madre fa scarpine, scarpine, scarpette, con le calzine, le farebbe delle bellissime babbuccette, delle scarpettine quelle con l'accetto, è delizioso il botto per quelle cose lì. Con la calzina, sembra rustico il botto, ma con la calzina diventa una scarpetta deliziosa. E poi può sempre divertirsi mia madre a metterlo a righe da qualche parte. Quindi sono tutti colori che in qualche modo si possono, anche nelle minime quantità, visto la presenza di bambine piccine, possono diventare altro. Quindi abbiamo il quantitativo per due eventuali golfini a mia nipote. Abbiamo il quantitativo per due copertine già rifinite, come con il rose, il rose rosa e il rose pesca. Quindi è vero che non saranno uguali, cioè non sono nella stessa famiglia, queste non fanno parte della stessa famiglia, come le mie gemeline. Ma ad esempio a mia nipote vuole delle cose simili ma non uguali per le due bambine, quindi che ne so, lo stesso materiale in due colori diversi, oppure lo stesso modello in colori diversi. Insomma, abbiamo quindi con 100 euro due copertine da carrozzina, stiamo parlando di carrozzine o di cullette, quelle piccolette, i dondolini, queste cose carine per i bambini per i primi mesi sono molto comodi. Quindi due copertine, due golfini con le rifiniture e varie opportunità di altre piccole cose con gli avanzi. 100 euro. Tutto combinabile, ogni avanzo può trovare modo di essere combinato con altro. Spero di avervi aiutato. Guardate, questa è la mia lista che io scrivo nei cosi. Eccolo qua. Questo qua. Prezzi, metri. Oh, 100 euro tondi tondi. Ecco, e siccome con oltre 40 euro di sposa, di spesa, non si pagano le spese di spedizione, non c'è nessun contributo, ecco il fatto che a mia madre ho offerto il bonifico che dobbiamo fare. Che è tutto un passaggio. Mia madre carica la post pay, mia figlia poi fa i bonifici in giro. Insomma, tra l'altro con la gentilezza, non so se lo posso dire, di aver questa cosa tenuta da parte perché mia madre era minga in giro, non è ancora a casa dove vive con una delle sorelle e quindi le lollo mi stanno tenendo in stand-by questa cosa. Lo so che non avrei dovuto dire, però siete gentili. La adora. Le lollo, i miracoli non li sanno fare come tutti. Ci sono alcuni, ci sono dei santi, eh, che fanno e hanno fatto miracoli, li fanno tuttora da dove si trovano. C'è il nostro Signore Gesù Cristo che fa miracoli. Anche la Madonna se ci si mette. Ma a noi, salvo, non lo so, non è toccato. Quindi manco alle lollo. Quindi non è che possiamo chiedere, eh, kiss the kill. Però vi vengono incontro, sono gentili, sono creative. Quando una cosa si può fare, la fanno. Se non si può fare, non bisogna pretendere. Lo dico a me, eh, più che a voi. Lo dico a me. E quindi ecco fatto che mi hanno fatto anche questa gentilezza che so che non possono fare a tutti. Cioè non è che si può fare tutti i momenti di tenere stand by delle cose. Però io ho fatto, ho pagato, ho pagato, abbiamo pagato. Ecco, così me ne stanno per mandare. Quando mia mamma rientra, allora arriva il pacco. Ecco, non possiamo chiedere. Mi metti da parte chi, e poi magari, ecco, non si può fare. Perché? Perché le cose compaiono sul sito. Quindi io ho pagato tutto e ho chiesto, per piacere, però non votemelo partire adesso, perché la mamma non è a casa, a casa sua. Bene, sono contenta. Quindi, eccoli, quando compriamo delle cose, o siamo proprio innamorati di un colore così, o un colore così, un colore così, un colore così, oppure cerchiamo di ottimizzare, ed è un esercizio creativo, eh, ecco, di comprare le qualità che ci piacciono. Ovviamente nei colori che ci piacciono, ma se abbiamo dei tentennamenti nel numero di cake, perché non abbiamo ancora ben presente i progetti, o nelle colorazioni, cerchiamo di fare delle combinazioni, in modo che ciò che avanza, noi si possa reinventare per noi, o per qualcun altro, ecco. Avete visto, ad esempio, il raggio, o calzettare e calzettari. Raggio è un filato incantevole per calzini, soprattutto per chi non vuole lavorare con calibri piccolissimi. Ad esempio, Luca Sforza, mi ricordo in diversi vocali, ha ribadito che lui non ama fare calzini con i filati piccoli, stretti, vuole le calze un po' più morbide, e ama realizzarli, mi pare col 4, sia il suo calibro preferito. Ecco, io non ho questa difficoltà, perché tanto ne faccio sempre solo uno, quindi capirete, potrei usare anche l'uno di ferro. Tanto mi rimangono sempre figli unici, quasi tutti hanno, dovrei rimettermi a fare le calzini perché ho messo da parte tante belle cake per fare i calzini. Cosa mi sono scelta per fare i calzini? Mi sono scelta il raggio, perché io ce l'ho avuto, sì, che era ancora solo il giallo, ed era bello. Ah, vedi un po' che è bella lana da calzini, sapete che io amo la lana, amo i filati naturali, più sono naturali, meno ci sono intrugli, e meglio è. Però, a voi che cercate, quelli, missi con un po' di qualcosa, che li fa più robusti, ecco, lui è perfetto perché è un 70% lana e 30% altre cose, quindi non avete scuse. E poi cosa mi piace per i calzini? Mi piace un filato che non è elasticissimo, che è il, domani ve lo dico, lo Scozia. Io amo quel filato perché, insomma, proprio mi piace, mi piace e mi immagino dei calzini multicolor, ma anche con il raggio, ma il raggio è più, andate a vedere, sono opportunità diverse, con un piccolo avanzo di kiss, di kill, facciamo i calzini con dei punti colore, o con dei trafori, o con dei bubble, o con delle inclusioni qua e là, veramente molto carine, quando soprattutto non vogliamo fare delle calzette complicate, questo è un momento dove tutti abbiamo bisogno, molti di noi, diciamo che c'è chi si distrae facendo il complicato, proprio il virtuoso, perché deve concentrare, io non riesco a concentrarmi se sono preoccupata, in ansia, o sotto tensione. Mia figlia fa moduli, io ieri sera ho terminato, tranne tre, mi manca la base, tutti i moduli per fare la borsa che mia figlia mi ha chiesto, per una sua amica, poi vi faccio vedere i colori, sono contenta di ciò che ho fatto, beh, però a me il fermare, tutte queste codine, mi metterà nervoso, l'ho fatto, sono stata brava, ogni giro ho fermato subito, perché sono quattro colori per formella, sono otto codine, anche se lo fermo alla partenza, lo inglobo mentre lavoro, ma poi alla fine è sempre bene ancorare, vero è che una borsa non è una coperta, nemmeno una maglia, nemmeno un calzino, quindi una volta che stanno lì, belle abbracciate alla borsa, perché noi andiamo a foderare una borsa già creata in tela, usiamo quella come fodera, così nessuno ci ha da impazzire, e ho fatto le formelle che mi diano poi quella misura, ecco, però è sempre bene, visto che stanno ferme, non subiscono molti lavaggi, presumo, non subiranno, ma è sempre bene fermarle le codine, bene, 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 perché viene la manina che tira un po', che vera formellina, viene quella che, c'è sempre qualcuno che tira, dove non deve mettere mai, e non dovrebbe mettere già l'è, tab, pacchettate sulle mani, poi tanti bacetti, però, pacchettate sulle mani, un cucchiaino, ting, un mestolo di legno, tac, non si tocca, pun, cosa tiri, metili, però fermiamo le codine, va bene, vi è piaciuta questa cosa, 100 euro, cosa ho compito, 100 euro, due maglie, taglia XS, non sarà aderente, poi farò vedere le foto, se la nonna rimanderà, e quale farà, tra l'altro, quindi due opzioni di colore alla nipote, cosa diventerà poi l'altro, l'altro può diventare altro, può diventare un'altra copertina, perché mia madre ha intenzione di fare un'altra copertina, queste nipotine, e poi, quindi due golf, due copertine, praticamente tre ce ne vengono, e le scarpette, e poi con gli avanzini, di quelli più morbidi, rispetto al botto, il botto sta proprio la babbucetta carina, sapete quelle bamboline, viene in amore, con le calzine, dentro, col piedino, le calzine, e poi si, farà delle calzine mia madre, mia madre non lavora con i circolari, non ama fare top down, quello fa, e quello è, giro manica, perfetti, i polsini carini, però ecco, non ama certe modernità, e lei fa le calzine, che poi cucce, ma le fa proprio carine, le ha sempre fatte, e cucce bene, quindi non ci saranno sprechi, siete contenti, non ci saranno sprechi, 100 euro di spesa, guardate quanta roba, e tutto combinabile, più o meno, ciao!